L'avvio della stagione agrituristica si scontra con il peso dei rincari in bolletta. La stagione 2021 ha segnato la ripresa. L'avvio del 2022 torna però ad essere denso di preoccupazioni per il settore agrituristico dell'Alto Mantovano. Il cuore dell'economia di settore tra Monzambano, Volta Mantovano e Ponti Sul Mincio apre la stagione con il peso dei rincari e delle bollette. Il turismo straniero sta iniziando a popolare il basso garda ma per le strutture pur chiuse in buona parte di avvio d'anno il primo trimestre resterà molto pesante. Quanto meno dopo due anni la primavera riporta diffusamente le cerimonie a riempire gli agriturismi. Si va a iniziare una stagione che come può essere preannunciata? Preoccupazioni aspettative degli agriturismi nell'Alto Mantovano quali sono? Allora la preoccupazione ci può essere ma non per la mancanza di lavoro perché qua lavorano bene o male tutti soprattutto ovviamente quegli agriturismi che lavorano bene. C'è da sottolineare questo. La preoccupazione può derivare dal fatto delle bollette. Sappiamo benissimo anche noi gas, luce, adesso poi il periodo di tasse. Bene o male tanti agriturismi come può essere questo lavora tanto ma per pagare le bollette perché anche l'ultima bolletta del gas è stata esorbitante. Quindi tante persone sono dovute ricorrere alla rateizzazione pur di starci dentro. Quindi ripeto il lavoro c'è e ce n'è tanto soprattutto adesso che cominciano ad arrivare anche i tedeschi. Questa qui è una zona che si presta molto al turismo estero, capito? Tanti hanno le case qua quindi già anche adesso che è il periodo di Pasqua cominciano ad arrivare. Quindi l'occasione, il mercato c'è però ci si scontra contro un muro. Assolutamente sì. Assolutamente sì anche perché poi parliamo per l'agriturismo in questo caso. Contributi sì ci possono essere ma ci sono anche tanti vincoli. Quindi tante volte nessuno ricorre al contributo perché è sempre, si dice sempre no, l'agriturismo ci sono i contributi di qua e i contributi di là. Non è così.